Adesso sono a Dnipr, nelle retrovie sostanzialmente, 130 km dal fronte. Tra dove sono io e Mariupol c'è Zaporoglie, la città dove c'è stato lo scontro a fuoco nella centrale nucleare, un altro passo in più verso la disgrazia, il superamento di ogni tabù in questa guerra. Andrea, tu sei da giorni lì, che cosa è cambiato in questi 11 lunghi giorni? Che cosa hai visto con i tuoi occhi? La ferocia, è cambiata la ferocia. All'inizio l'ondata, la prima ondata di bombardamenti è stata quasi meno violenta di quelle a cui ci hanno abituato gli americani nelle loro guerre. Gli americani usavano in modo massiccio i cruise, i missili da una tonnellata, bombe enormi, in particolare su installazioni militari e sulla contraerea. I russi hanno fatto una giornata di bombardamenti in questo modo e non sono neanche riusciti a eliminare tutta l'aviazione. Poi hanno subito buttato dentro la fanteria, le divisioni di tank, i mezzi corrazzati. Perché man mano che avanzavano probabilmente speravano di avere un'accoglienza diversa, speravano che come era successo nel 2014 l'esercito ucraino si liquefacesse. E invece no, la forza ha continuato a crescere, la gente ha fatto la coda per arruolarsi nella milizia di difesa territoriale. L'esercito ha retto, è riuscito persino a proteggere alcuni pezzi di contraerea, ha protetto le sue attrezzature di artiglieria, anche i blindati. Per cui mano mano che l'avanzata di terra russa procedeva, Putin si è reso conto che non era una passeggiata. E allora ha aumentato il bombardamento aereo, ha aumentato l'uso dei missili. Ma quando ormai i civili e i militari erano mischiati, quando ormai era difficile, impossibile, o forse non ha mai neanche tentato di distinguere un obiettivo legittimo da uno civile. Questo è stato e continua a essere così. Più le città resistono, più aumenta la violenza dei bombardamenti, più gli obiettivi diventano indiscriminati. Ecco l'altro.